Presente in collegamento. Facciamo l'appello di queste commissioni congiunte, cominciando dalla C8. Ancarani, lo vedo non in aula, ma ha messo la tessera, quindi aspettiamo che arrivi, ma proseguiamo. Ancisi è in collegamento, Bazzocchi lo vedo assente, Bombardi presente, Buonocore? Presente. Ercolani in collegamento? Presente, mi sentite? Sì, grazie. Esposito anche lo vedo in collegamento. Presente. Buonasera. Francesconi è in sala. Grandi è in sala. Natali è in sala, presente. Impellizieri assente. Non la vedo tra i collegamenti e neanche qui in sala. Schiano. Schiano lo vedo collegato. Presente, presente. Non so se mi... Ok. Perfetto. Stiamo. Vasi. Non mi sembra di vederlo in collegamento al momento. Verlicchi la vedo collegata. Passo la parola quindi al Presidente Ferrero per l'appello dei componenti della Uno. Grazie, buonasera a tutti. Chiederò la presenza ovviamente di quelli che non sono già stati richiesti, della cui presenza non è già stata richiesta. Ancarani? Non lo vedo presente. Baldrati? Presente. Campidelli? Presente. Grazie. Grazie. Ferrero, presente. Impellizieri? Si è collegata nel frattempo... No. Perini? Sì, ci sono. Presente, Presidente. Presente. Grazie. Rolando? Presente, presente. Perfetto. Gottarelli in sostituzione di Valbonesi? Grazie. Vasi? Al momento non è ancora presente. Lascio la parola al collega Bombardis per l'approvazione dei verbali. Grazie Ferrero. Saluto anche che vedo presente e collegato Pierangelo Orselli come esperto per il gruppo Ravenna Coraggiosa. In sala do il benvenuto e ringrazio all'assessore Costantini e al dirigente Ravaioli, a cui poi daremo la parola per il secondo punto di questo ordine del giorno. Nel primo punto, l'approvazione dei verbali. Partirei dal verbale già approvato il 18 di ottobre per la Commissione 5, in merito alla Commissione congiunta 5 e 8 del 2 ottobre di quest'anno, per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per le specie di sommorgenza sostenute a causa delle avversità di condizione meteorologica verificatisi nel territorio a maggio. Variazione di bilancio. Ripeto, già approvato per la 5. Ci sono astensioni o pareri contrari? Gottarelli? Io mi astengo ovviamente perché non ero presente. In sostituzione, sì. Nessun altro lo diamo quindi per approvato. Anche la C1 ha un verbale da approvare. Prego, Ferrero. Grazie. Sì, il verbale in questione è relativa alla Commissione che si è tenuta il 16 ottobre, avente per oggetto degrado ed insicurezza nell'isola San Giovanni, piazza Baracca, installazione delle camere di viso di sorveglianza e aggiornamento sul contrasto alla delinquenza. Chiedo se ci sono dei pareri contrari o astenuti, altrimenti lo do per approvato. Presidente, mi astengo perché non ero presente in quella Commissione. Perfetto, grazie. Benissimo, grazie. Prego, Gottarelli. Anch'io mi astengo perché non ero presente, ovviamente. Perfetto, grazie. Lascio la parola al collega Bombardi. Grazie. Quindi, secondo punto all'ordine del giorno, è l'esame della deliberazione PD 324, ovvero regolamenti usi civici della pesca. Sì? Quindi, prima di dare la parola all'assessore Costantino e al dirigente Ravaiole, che esporranno le modifiche nel merito di questo regolamento, chiede un attimo la parola il collega Ferrero. Grazie. Sì, no, chiedo la parola perché ho notato che c'è un errore, probabilmente un refuso, e lo voglio segnalare all'assessore e al dirigente in maniera tale che poi si possa fare un ragionamento compiuto. Nell'articolo 9, dove si parla, la Commissione è composta da sei membri, poi si fa un elenco. Se si contano i numeri dei membri, non sono sei, ma sette. Di conseguenza, volevo segnalare la cosa in maniera tale che si possa emendare prima che ci sia la discussione. Grazie. Grazie, Ferrero. Passo quindi, come dicevo, la parola all'assessore Costantino e al dirigente Ravaiole, se appunto interviene in presentazione, per l'avvio della discussione. Prego, assessore. Perfetto, grazie mille. Grazie ai Presidenti delle Commissioni, anche per l'osservazione. Poi entrerò nello specifico di quelli che sono i cambiamenti più importanti del regolamento, che come sapete ha visto un lungo percorso di confronto, non solo con le parti interessate, cioè chi dal punto di vista del tempo libero, proprio professionale, frequenta la nostra Pialassa ed è titolare di uso civico, ma perché è stato utile, oltre che necessario, un confronto più allargato con le forze dell'ordine che agiscono in maniera sinergica nella Pialassa per contrastare il problema dell'abusivismo e del braconaggio che tutti conosciamo. Abbiamo visto anche come dai titoli di giornale negli ultimi due anni, ma anche prima del periodo Covid, si è partito un coordinamento tra le varie forze che ha portato a diversi sequestri e anche sanzioni pesanti nei confronti di chi approfitta della Pialassa Baiona, che ricordiamoci è prima di tutto una risorsa naturale che dobbiamo continuare a tutelare perché resti non solamente fruibile ma anche viva e interessante da un punto di vista naturalistico ancora prima che di scientifico studio e ricerca o di sostentamento come sono altri usi previsti nella Pialassa. Riassumendo velocemente, il tema dell'uso civico è un tema di diritto che viene da molto lontano, lo si eredita da diritti di tipo feudale che arrivano ai giorni nostri, prevedendo che quel bene pubblico sia utilizzato appunto per sostentamento o anche per profitto, quindi sia che l'uso sia essenziale, sia che sia utile, lo sia previsto per chi è residente nel comune di Ravenna da almeno tre anni e questo qui viene sottolineato all'interno del regolamento e ovviamente è la base che ne definisce anche l'uso civico, così come l'uso civico è contrario a qualsiasi forma di concessione, cioè se all'interno della Pialassa fossero presenti forme di concessione non sarebbe di fatto contrastante con la definizione stessa di uso civico. È vero che però nel tempo sono state portate avanti diverse iniziative in collaborazione con università, in collaborazione con centri di ricerca finanziati grazie al FEAMP che è la linea di finanziamento speciale per la pesca della Commissione europea e ho anche finanziati dalla Regione tramite altri finanziamenti che riguardano sempre la valorizzazione degli ambiti territoriali che hanno un rilievo paesaggistico e ambientale. La nostra Pialassa ha, grazie ad un livello attento delle istituzioni e di chi ha i compiti di controllo, si presenta in buona salute ma non con quelli che sono i problemi principali appunto di abusivismo e di braconaggio estirpati, anzi questo qui è il problema principale della nostra Pialassa che potrebbe anche metterne in difficoltà la sostenibilità di un ambiente così fragile. Ecco perché approfittiamo della revisione del regolamento per intervenire con maggiore decisione su alcune regole chiare e circoscritte che possano facilitare i controlli e anche il contrasto di chi ne fa un uso illecito dal punto di vista amministrativo in alcuni casi, anzi nella maggior parte dei casi anche dal punto di vista penale. Vado con ordine seguendo gli articoli del nuovo testo andando a sottolineare quelle che sono le modifiche più rilevanti almeno da un punto di vista politico, quindi dal mio punto di vista poi lascerò al dottor Ravaioli il merito di entrare più sugli aspetti procedurali e burocratici. All'articolo 2 troviamo già la prima sostanziale modifica, cioè quella della diminuzione della quantità pescabile di vongole giornaliera che passa da un quantitativo di 50 kg a un quantitativo di 30 kg. Questo è stato definito confrontandoci all'interno della commissione usi civici con soprattutto con tutti i portatori di interesse rappresentati all'interno della commissione ma soprattutto con i pescatori che siedono per elezione diretta al tavolo e grazie alla loro esperienza nel rispetto degli strumenti che possono essere utilizzati per la raccolta delle vongole abbiamo individuato quindi una quantità che fosse un quantitativo concreto e che nell'andare a restringere quei 50 kg prima previsti non allontanasse comunque i professionisti che hanno l'uso e che pagano l'uso civico perché altrimenti si rischiava nel voler stringere ulteriormente e troppo di allontanare chi invece fa un uso corretto dentro le regole della risorsa naturale della nostra pialassa. Faccio un breve inciso perché ho parlato della commissione usi civici e quindi salterei a quello che è l'articolo che riguarda la commissione che la definisce che è l'articolo 7 anzi scusatemi l'articolo 9 l'articolo 9 lo abbiamo già rivisto qualche mese fa in questa consigliatura siamo intervenuti in maniera circoscritta sull'articolo 9 proprio perché con la precedente commissione ormai sollevata dall'incarico per andare ad un lavoro concreto di revisione del regolamento correva un confronto con quello che è proprio l'istituto di confronto principale della pialassa che è la commissione usi civici la commissione quindi l'articolo sulla commissione è stato rivisto e siamo passati dalla commissione consigliare competente oltre che dalla delibera di giunta e dal consiglio comunale appunto qualche mese fa ci siamo confrontati su questo testo questa bozza di regolamento che vi presentiamo oggi con tutti gli enti che devono hanno potere di intervenire di esprimere un parere il parco del delta ha espresso un'osservazione in questo articolo molto semplice che è quella che ha previsto l'inserimento di un disegnato dell'ente di gestione per i parchi e la biodiversità delta del Po con comprovata esperienza di gestione delle zone naturali quindi un profilo tecnico ecco perché quel rifuso che sottolineava il presidente Ferrero che ringrazio dove erano sei i commissari diventano sette perché il parco del delta ci ha chiesto di inserire un loro rappresentante e noi abbiamo ritenuto sostanziale e accoglibile questa questa richiesta di modifica che siamo andati ad inserire appunto al comma 2 dell'articolo 9 tornando indietro vado rimango sempre sull'articolo 2 e vado al comma 4 che è un comma nuovo completamente inserito dove abbiamo previsto e definito la raccolta degli anelli che già viene fatta da alcuni pescatori professionisti osservando ovviamente alcune prescrizioni come la distanza dalle palificazioni fisse nell'acqua di 3 metri che è poi lo stesso criterio che deve essere osservato anche per la licenza di pesca professionale avete visto quindi già che nel confronto che voi avete sull'articolo sull'articolo 2 abbiamo non un nuovo non tanto una modifica di alcuni passaggi ma un testo veramente nuovo cioè la concessione la concezione del nuovo testo parte da approfondimenti ulteriori specifiche che sono state apportate ad un regolamento che non subiva modifiche da tanti anni quindi proprio la costruzione del testo è molto cambiata è difficile fare un confronto in parallelo perché sono stati inseriti interi articoli e diversi commi nuovi oltre che a modificare il contenuto di alcuni passaggi andando avanti con l'articolo 3 vi sottolineo il comma 3 questa è una novità molto importante e che ci permette di avere un maggiore controllo della pialassa ma che sarà inserita successivamente infatti è stata prevista anche una norma transitoria che prevede lo studio e la realizzazione di questo che scriviamo nell'articolo 3 che vi leggo gli aventi diritto devono altresì dichiarare le caratteristiche dei natanti utilizzati per la pesca il tipo di motore e la posizione di ormeggio su ogni natante dovrà essere apposta una targa identificativa fornita dal comune la targa identificativa ovviamente serve per riconoscere chi ha un uso improprio della pialassa chi ha una fruizione impropria della pialassa perché se la pialassa tra professionisti e pesca sportiva deve essere frequentata dagli aventi diritto se ci sono all'interno alcune previsioni specifiche come per progetti turistici o di ricerca o anche di tutela comunque hanno un dialogo con il comune esistono non solamente abusi possono esistere non solamente abusi nell'attività di pesca ma possono esistere anche abusi nell'attività turistica per andare in valle per guidare ma per andare in valle per guidare un gruppo occorre essere guida turistica riconosciuta una guida turistica può avere anche una specifica di escursionistica ambientale e quindi deve comunque avere un permesso andare a prevedere un'identificazione del natante direttamente connessa all'uso civico comunque ad una collaborazione con l'amministrazione ad un riconoscimento dell'amministrazione è un un elemento forte e che appunto vorremmo diventasse duraturo e infrastrutturale nella gestione e nel coordinamento delle forze dell'ordine che poi devono agire in Pialassa per questo stiamo portando avanti uno studio e una serie di confronti con chi ha più esperienza di noi perché non si tratta di una sperimentazione ovviamente la sperimentazione ci potrà dire se può essere migliorato o no questo nuovo istituto introdotto dall'articolo 3 però vorremmo che questa che l'identificazione del natante fosse una regola utile a tutti quanti quindi per farlo stiamo guardando chi come nella laguna di Venezia lo utilizza da decenni il codice identificativo su sulle imbarcazioni non sarà a seguito dell'entrata in vigore di questo regolamento che vedremo immediatamente l'utilizzo e quindi la fornitura della targa identificativa ci vorrà ci vorrà più tempo sicuramente diversi mesi diversi mesi per studiare un sistema che non sia falsificabile e che non sia facilmente rimovibile e che sia utile in un ostacolo alle attività di controllo andando avanti salto all'articolo 4 dove al coma 1 trovate una sottolineatura questa qui è una questione non dico tanto di stile perché si tratta di contenuto però a delle cose che erano sempre state previste ma che all'interno poi del regolamento non erano così ben specificate e sottolineate come quella che è la distinzione tra pescatori sportivi e di professione e quello che è la determinazione dei contributi rispetto al loro utilizzo qui viene sottolineata in maniera perentoria fin dal primo coma dell'articolo 4 inoltre siamo andati a sottolineare cosa che già abbiamo fatto come esempio di buona gestione delle risorse che derivano dal pagamento dell'uso civico del diritto nel coma 3 scriviamo che le risorse non utilizzate alimentano l'avanzo vincolato degli usi civici non sto ad entrare nello specifico di come vengono utilizzate perché è stata fatta un'ulteriore sottolineatura però sempre sono state utilizzate queste risorse in accordo con la commissione usi civici e ovviamente solamente a scopo di tutela monitoraggio miglioramento degli ambienti che riguardano la valle e anche il contrasto dell'abusivismo continueranno ad essere spese così e abbiamo semplicemente puntualizzato come abbiamo fatto poi anche rispetto agli avanzi delle precedenti gestioni non 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 investiti che le risorse non vengono utilizzate che non vengono utilizzate alimentano questo avanzo vincolato degli usi civici che costituiscono sia un capitolo del bilancio del comune di Ravenna ma che non può essere utilizzato se non con l'accordo della commissione stessa salto all'articolo 6 dove facciamo uno specifico comma che riguarda gli strumenti vietati le attrezzature vietate all'interno della della pialassa il comma 3 che prima non era presente vieta non solo l'uso questo lo vorrei sottolineare perché poi direttamente connesso anche all'impianto sanzionatorio ma vieta anche la detenzione all'interno del perimetro della pialassa quindi che va da via delle valli un ambito molto ampio non solamente lo specchio acqueo fino all'abitato di Marina Romea la via Bayona e la via Romea quindi l'uso e la detenzione di draghe turbosoffianti e idrorasche quindi questo significa sanzione e sequestro dei mezzi non solamente devono essere colti durante l'utilizzo ma semplicemente la detenzione di questi di questi strumenti un rafforzamento non banale del della possibilità di intervento da parte delle forze dell'ordine all'articolo all'articolo 4 invece andiamo ad inserire una specifica particolare su le potenze dei motori in dotazione alle imbarcazioni distinguendo tra fuori bordo e entro bordo la modifica 8 delle mie annotazioni è quella che riguarda la commissione della quale vi ho parlato subito l'ultima modifica che vi volevo sottolineare no direi che non è sostanziale come quelle che vi ho elencato fino adesso quindi direi che le più rilevanti anzi non direi dico e chiudo che le modifiche più rilevanti le ho fatte presenti che riguardano la commissione quindi da che è composta i rafforzamenti dei controlli e delle possibilità di intervento da parte delle forze dell'ordine l'introduzione della pesca degli anelli di la modifica della quantità della della quantità pescabile nella nella pialassa giornalmente e il il perimetro insomma di azione delle forze dell'ordine oltre che alla distinzione dettagliata alla distinzione perentoria tra pescatori sportivi di professione anche per quanto riguarda poi il pagamento dell'uso civico vi ho riassunto velocemente i tratti i punti principali lascio la parola al dirigente Ravaioli se vuole aggiungere qualcosa sì l'assessore è stato molto chiaro e io volevo aggiungere solo questo il percorso per arrivare a questo regolamento è stato piuttosto lungo noi siamo intervuti sulla sua articolo 9 perché avevamo bisogno di fare lezioni della commissione e poi siamo intervenuti sul resto ma già l'elaborazione di tutto il regolamento era già in piede a tempo io sono qui da tre anni e il regolamento era già stato messo in discussione allora il percorso che ha portato a questo regolamento ovviamente è stato un percorso condiviso sia con la commissione di usi civici che abbiamo che si è recentemente insediata ma anche aggiungo con le forze dell'ordine nel senso che al di là di una stesura a quattro mani del servizio ambiente e del servizio di polizia locale per quanto attiene la parte sanzionatoria c'è stato proprio una condivisione con le altre forze dell'ordine in particolare quelle che esercitano un controllo diretto sull'area che sono la polizia provinciale ovviamente assieme a noi che sono la polizia provinciale e anche i carabinieri forestali l'aspetto diciamo più rilevante uno degli aspetti più rilevanti che contribuirà in qualche maniera a dare degli strumenti in più le forze dell'ordine è sicuramente quello che vieta la detenzione di particolari strumenti all'interno dell'area in particolare turbosoffianti idrorasca eccetera eccetera quindi e la detenzione anche di motore ecco oggi chi va a fare un giro in Pialassa si accorge che ci sono dei motori di una potenza molto elevata che lì non possono girare perché è un'area protetta particolare che quindi noi abbiamo intenzione con le forze dell'ordine di togliere nella parte stazionatoria voi vedete che la detenzione di questa strumentazione è composta la confisca e il sequestro quindi è una misura molto forte condivisa anche aggiungo con il parco del terpò che diceva prima il sessore ci ha mandato un proprio parere e che ha chiesto secondo me giustamente di essere interna della commissione in virtù degli aspetti di tutela che competono non solo come di Ravenna come progettare dell'area ma ovviamente anche il parco del delta come ovviamente in quanto avendo titolo in quanto quella è area di parco ecco anche io ringrazio del refuso perché è dovuto al fatto che erano sei sono diventati sette componenti per cui ecco direi che ho detto tutto ringraziamo assessore Costantini di agente Alvaioli per la presentazione del documento apriamo ovviamente il dibattito se i commissari necessitano di intervenire al momento non vedo prenotazioni in sala per Rolando che vorrebbe prenotarsi ha mandato un messaggio Rolando se non ho interventi se vuole intervenire per primo le do la parola sì volentieri mi sentite prego mi sentite buon pomeriggio sì la sentiamo eccoci mi senti eccoci allora io innanzitutto vorrei contestualizzare perché sono stati fatti parecchi interventi e forse si è voluto dare meno enfasi a diciamo la volontà che insomma l'amministrazione ha voluto esprimere con queste con queste questi cambiamenti qua e la volontà sembra uno slogan magari fuori contesto però potrebbe essere quasi chiamata tolleranza zero tolleranza zero al braconaggio tolleranza zero che poi ne consegue il far west che purtroppo le nostre valli sono vittime l'abbassamento dei minimi della raccolta e volevo chiedere adesso che prima che mi dimentichi un appunto perché non ho i documenti sotto mano si è nominato il cambiamento c'è la modifica anche fra motori fuori bordo e entro fuori bordo ovvero quello che non ho capito si è diciamo calmirata la differenza sappiamo bene che un 5 cavalli fuori bordo non non equivale a un 5 cavalli entro fuori bordo per avere diciamo la stessa potenza diciamo nautica di un 5 cavalli fuori bordo bisogna montare almeno un 40 cavalli quindi mi auguro penso suppongo che l'amministrazione abbia pareggiato questo dislivello qua così così facendo anche le storiche battaglie compagnie belle che ci hanno per chi ci ascolta all'entro fuori bordo è un motore che all'interno non è fuori e quindi ha più attriti e per scaricare la potenza in acqua e ovviamente quindi per pareggiare bisogna molti più cavalli è un motore diverso con giri più bassi eccetera quindi se dopo il dirigente mi conferma e mi specifica le potenze massime sia della categoria dei fuori bordo che la categoria dell'entro fuori bordo detto questo comunque io sono abbastanza favorevole diciamo a questa stretta a questo cambio di direzione per quanto riguarda la lotta contro il braconaggio ci sono comunque altre iniziative da fare ma comunque questo è già un passo avanti e volevo chiedere se comunque come si era parlato mi ricordo qualche anno fa che poi andammo anche dal prefetto se l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di arrivare per tempo avvisando tutte le famiglie che ci lavorano eccetera eccetera a chiudere la possibilità di utilizzo della piolassa per i fini di pesca tra virgolette oppure si è cambiata direzione e si vuole mantenere ovviamente con più controllo e quant'altro grazie per ora concluso consigliere Rolando mi permetto di dare una brevissima risposta nel senso che è previsto all'articolo 6,4 per quel che riguarda la differenza fra motore fuori bordo e motore entro bordo quindi di fatto è già stato recepito quello che lei suggeriva comunque se l'assessore vuole o il dirigente vogliono rispondere integrare possono tranquillamente sì non avendo il dispositivo appunto magari così anche chi guarda chi ci segue senza avere il dispositivo sotto lo sa vorrei specificare quali sono le potenze di una categoria di motore e dell'altra categoria grazie leggo il passaggio un attimo assessore si è abbonato Ancisi magari facciamo l'intervento anche di Ancisi poi una risposta per entrambi Ancisi prego ha il microfono aperto se vuole intervenire sì sì vorrei dire che questo lavoro è stato un lavoro molto importante prolungatosi per anni di cui però il Consiglio Comunale non ha saputo niente finora e che quindi ognuno di noi deve valutare attentamente paraltro devo dire che la formazione della Bossa del Libro non aiuta la deliberazione dovrebbe nelle premesse dare atto di tutte le ragioni che hanno portato ad avanzare queste proposte e soprattutto di quelle più importanti di cui oggi noi abbiamo avuto la relazione dell'assessore e del dirigente ma che sommariamente dovrebbe essere comprese anche nella delibera perché noi non siamo qui a leggere parola per parola tutte le valanghe di robe che ci arrivano e dove aspettare la commissione e poi dove ne discutere il successivo Consiglio Comunale quindi io non so per quanto sia stata calendarizzata questa seduta del Consiglio Comunale ma io personalmente ho bisogno di fare delle verifiche le intenzioni mi sembrano valide le modalità attualmente non sono in grado di valutarle e quindi va bene che fosse il primo consiglio al 7 però vorrei e magari non sarebbe domani nel classico martedì di ogni settimana però insomma bisogna avere un po' più di considerazione del Consiglio ecco perché poi non si può presentare una cosa così complessa cioè in genere però le commissioni insomma vengono danno un contributo anche in serie di via via di processo della formazione del nuovo regolamento qui ci arriva così all'ultimo momento e vabbè però l'impressione è che tutte queste cose che restrizioni controlli strumenti di controllo limiti eccetera eccetera giustissime ma vengono applicate solo da quelli che ci lavorano alla luce del sole finché poi il balconaggio e abusivismo eccetera infieriscono come finora hanno continuato di infierire senza rispettare non dico le prossime regole ma quelle che sono state finora molto più flessibili molto più leggere la pialassa non è tenuta come ha detto anche l'assessore in maniera splendida è sede di rapina di danneggiamento ambientale per cui va bene tutta questa roba qui ma se questo vale solo per chi pesca la luce del sole quindi può essere preso tanto meno tanto preso facilmente sottoposto a pagare molti altissime e chi rapina letteralmente produce un degrado altissimo alla qualità della pialassa ecco allora ci dobbiamo chiedere allora ci porta a chiedere si porta a chiedere anche cosa si intende fare per poi per alla luce di questa nuova regolamentazione per stroncare il bagonaggio e l'abusivismo e l'abusivismo con quali strumenti con quali strumenti non solo di risorse umane delle varie polizie che hanno titolo per intervenire ma anche degli strumenti tecnologici che servono alle forze dell'ordine per poter intervenire tempestivamente quando lì dentro anziché la pesca alla luce del sole si si verificano attività del tutto del tutto illegali 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 perché finché sono irregolarità amministrative va bene va bene va bene ma qui molto di più molto più grave sono le irregolari quando non sono più irregolarità amministrative ma sono illegalità non solo illegittimità ma illegalità e su questo c'è una paurosa latitanza c'è stata una paurosa latitanza fino ad oggi per cui vale la pena anche di esaminare il forse non è stato modificato il l'articolo sul sui contributi come lo leggo adesso non avendo potuto fare il confonto prima perché spettato naturalmente questa riunione prima di mettermi lì a guardare parola per parola perché dalla delibera non si ricavava niente niente c'è il regolamento da modificare questa è la proposta prendetela così non si fanno così le delibere io vorrei che ci fosse qui il segretario generale e che magari ci ponessero un po' più attenzione anche loro anche loro la delibera deve dare conto delle ragioni di interesse pubblico sostanziali su cui si adotta un determinato atto e questo assolutamente nella delibera non c'è oggi a voce abbiamo avuto quello che avrebbe dovuto essere una sintesi delle ragioni delle motivazioni e dei modi con cui si è inteso modificare questo regolamento che è un nuovo regolamento quasi peraltro noi abbiamo esperienza di regolamenti che sono stati discorsi a lungo in commissione a lungo in commissione mi viene in mente quello sul benessere animale mi viene in mente quello sul regolamento di pulizia urbana eccetera eccetera questo non è un regolamento da meno questo non è un regolamento da meno però bisognerà allora che i contributi raccolti ad ogni altro bovendo derivanti eccetera eccetera sono conferiti in un apposito fondo eccetera eccetera rivolto sentita la commissione di quell'articolo 9 sostenere le spese per la sorveglianza la manutenzione e miglioramento ambientale delle valli ad ogni altra spesa necessaria per la gestione e conservazione della zona umida oggetto del presente regolamento questo sia un regolamento sia un punto che venga finalmente applicato perché finora dei contributi noi non abbiamo saputo niente e forse non ha saputo niente neanche la commissione almeno finché non è stata rinnovata non so da quando è stata rinnovata che cosa si è cambiato prima si andava avanti per gli anni per anni senza neanche sapere come questi contributi dove andassero finire e come dovessero essere spesi certo non con la propria autonomia insomma con il proprio distacco da quello che è la spesa degli altri capitoli di bilancio del COS quindi sono fuibili ecco se la per l'astra balona deve restare fuibile e vivibile come ha detto l'assessore rifatto il regolamento bisogna fare sul serio perché questo succeda altrimenti altrimenti è inutile mettere le cose sulla carta e poi si fanno le gozze multe ai fruitori più o meno regolari comunque alla luce del sole e si lascia violentare la pialassa e la propria fauna la propria fauna sempre in maniera più degradante insomma di questo ambiente preciosissimo quindi io chiedo un'integrazione della premessa della delibera che dia conto delle modifiche delle ragioni e delle cause per cui sono state introdotte le modifiche più sostanziali e poi secondo me sarebbe più opportuno non discutere i sette ma almeno nella saluta successiva per darci il tempo di fare quello che finora la commissione non è riuscita a fare non essere strumento recettivo passivo di atti che sono fondamentali come gli atti regolamentari di competenza del Consiglio Comunale perché questo non significa rendere il Consiglio Comunale partecipe e consapevole di come deve esercitare le proprie funzioni ma subirlo passivamente più o meno passivamente prendendo il prodotto praticamente già fatto adesso come si farebbe a fare degli ammendamenti da un momento all'altro per esempio per esempio fortunatamente ci sono questi giorni di festività dei morti ma come si sarebbe potuto altrimenti e quindi mi riservo la tranquillizzo per dirle che andrà in discussione il 14 quindi ci sono 15 giorni abbondanti di tempo è già qualcosa ciò non toglie che la Commissione avrebbe dovuto essere coinvolta prima non dico su ogni singolo punto ma man mano che il lavoro proseguiva e le consultazioni venivano fatte e si si passava da da una certa fase ad un'altra secondo me questo sarebbe stato la procedura corretta grazie consigliere Ancisi chiedo se qualche altro nei commissari vuole intervenire prima di ridare la parola all'assessore che possa fornire risposte a questi primi due interventi anche da remoto non mi risultano prenotazioni allora facciamo chiudiamo la riunione con la replica dell'assessore sì grazie ha già anticipato il consigliere Ferrero per dire che l'ordine del giorno nel quale è stato previsto l'inserimento della discussione del regolamento quella del 14 proprio perché non ci si voleva sovrapporre con un ordine del giorno già pesante e dare anche più tempo ai consiglieri per poterlo leggere e fare un ragionamento complessivo perché l'ordine del giorno c'è il recupero di quelle delibere attinenti all'urbanistica che non avete potuto discutere in quanto la collega del conte era influenzata quindi oltre ad avere più giorni non si voleva neanche avere un un ordine del giorno già appesantito da delibere così importanti dove necessita studio da parte vostra per fare in modo che si potesse riflettere meglio tutti quanti insieme su questo regolamento che vi è stato presentato non per fasi come suggeriva del consigliere Ancisi che può essere anche un metodo col quale procedere giusto ma in questo caso proprio avendo previsto un regolamento quasi nuovo le due fasi sono state una quella di intervenire sull'articolo della commissione per poi andare ad elezionare la commissione poi presentare un documento finito che non venisse anche indebolito dall'interessamento di portatori di interesse che magari non avevano proprio un quadro generale o le migliori intenzioni secondo noi è un buon un buon regolamento non perché lo diciamo noi ma perché lo dicono anche poi le forze dell'ordine che intervengono che devono intervenire e che hanno già un coordinamento da diversi anni per intervenire in maniera sinergica per il contrasto dell'abusivismo e del baracconaggio però con una consapevolezza che non basta modificare il regolamento per combattere tutto il male che abbiamo legato a le attività abusive in Pialassa quello deve essere in maniera continuativa presidiato grazie ai nostri solleciti le vostre interrogazioni che ci sono state sempre molto puntuali sul tema e anche un un intervento di utilizzo delle risorse accantonate perché non abbiamo fatto magari il rendiconto perché non avevamo la commissione che era il principale interlocutore ma gli usi civici sono stati tutti accantonati cioè le ultime spese erano state decise con la precedente commissione e poi non è stato più speso niente è stato tutto accantonato e dobbiamo definire con la commissione come intervenire anche sentite magari le forze dell'ordine che sono in Pialassa coinvolte proprio in una seduta della commissione che è andremo a fare subito dopo aver approvato il nuovo regolamento abbiamo già informato la commissione di quanto c'è in questo fondo e ci metteremo presto al lavoro anche su su questo sapendo che è un segreto per i consiglieri no no non è un segreto per i consiglieri non era l'oggetto di oggi però ve lo posso ve lo posso dire adesso se intanto io non ce l'ho sotto mano però è quasi 300.000 euro perché sono state accantonate una quantità vicina a qualche decina di migliaia di euro ogni anno 80.000 euro però se lo ricordo a memoria Stefano altrimenti lo vado a recuperare nei miei documenti confermo che la cifra diciamo se gira attorno ai 300.000 euro noi abbiamo dato nelle commissioni che abbiamo fatto delle commissioni giocidici che ne abbiamo fatte più di una conto di quelli che erano state le risorse accantonate e anche delle spese effettuate e quindi il capitolo è un capitolo istituito a parte e le risorse devono essere spese secondo quello che ovviamente dice il regolamento quindi poi magari possiamo sicuramente rivederci per dare per dar conto degli investimenti fatti in una specifica commissione per quanto riguarda invece l'integrazione della premessa dell'erde libera lo faremo raccogliamo l'invito di Ancisi e invece leggo per rispondere al consigliere Rolando il passaggio sui motori imbarcazioni con motori a scopio elettrici di potenza massima di esercizio è il comma 4 dell'articolo 6 di esercizio superiore ai 10 cavalli corrispondenti a kilowatt 7.35 fuori bordo e 40 cavalli entrobordo corrispondenti a kilowatt 29.42 quindi è molto preciso è un è un calcolo ponderato rispetto alla distinzione tra fuori bordo e dentro bordo chiudo dicendo che non è intenzione dell'amministrazione chiudere alla pesca la Pialassa Baiona è intenzione dell'amministrazione rafforzare i controlli e gli interventi anche a fini di ricerca scientifica quindi le collaborazioni con l'università e con i nostri centri di ricerca con i finanziamenti che siamo già stati in grado di intercettare negli negli scorsi anni per fare in modo che non sia solamente il controllo periodico di ARPA e dirci come stanno come sta la nostra Pialassa cioè non è non finisce nella qualità delle acque nell'indice di qualità delle acque il controllo che che dobbiamo che dobbiamo fare e penso che non ci sia tecnologia che possa superare il controllo fatto da chi frequenta certi luoghi quindi con gli investimenti che stiamo facendo grazie al PNRR che hanno un valore turistico ambientale proprio perché lo richiede il PNRR in quel finanziamento che abbiamo raccolto sia con una più forte collaborazione con le cooperative dei pescatori sul nostro territorio il monitoraggio deve essere coadiuvato sia da nuove tecnologie ma anche dalla presenza e dalla fruizione dall'utilizzo della Pialassa da parte di chi ha posizioni regolari posizioni regolari da vantare e che ha a cuore un bene un bene così importante quindi penso che nei prossimi anni dobbiamo anche approfondire su come meglio collaborare con le nostre realtà territoriali che pescano in maniera professionale nella Pialassa ho risposto a tutto se c'è altro siamo a disposizione grazie assessore Costantini dirigente Ravaioli per le risposte fornite se non ci sono come sembra altri interventi altre domande passiamo alla formulazione di parere vedo che il consigliere Ancarani in questo momento è fuori se riuscite ad avvisarlo se vuole esprimere un parere grazie grandi allora può essere allora procediamo quindi se d'accordo Ferrero chiamo il parere e se qualche commissario presente in entrambe le commissioni vuole esprimere il parere di simile lo renda noto in caso contrario il parere vale per entrambe le commissioni gruppo partito democratico gruppo lavenna coraggiosa favorevole grazie lista di pascale sindaco favorevole partito repubblicano ci risulta assente movimento 5 stelle favorevole ad entrambe grazie presidente grazie schiano gruppo misto gruppo fratelli d'italia in consiglio gruppo viva lavenna consiglio gruppo lega salvini premier in consiglio in consiglio grazie berlusconi per ancarani forse italian faccia all'anima sua in consiglio lista per lavenna vorrei fare una brevissima dichiarazione di parere non ho voluto riaprire la discussione per giustificare il rinvio al consiglio intanto prendo atto che sia finalmente chiarito quanto fosse bestiale aver affermato da parte di qualche amministratore intenzione di sopprimere l'uso della pesca in questa valle che non è possibile finché resta l'uso civico sono d'accordo che non è solo la qualità delle acque testificate tanto certificato da ARPA a dare conto del come ha detto l'assessore della fluibilità e della vivibilità di questo ambiente per cui il problema di come usare questi 300.000 euro che adesso nel frattempo non sono neanche diventati pochi per consentire di perseguire questo obiettivo insomma e siccome qui la causa principale del del degrado sono il balconaggio e l'abusivismo tutte le attività illegali di cui è preda la rapina insomma che si fa di questo patrimonio ambientale è vero ci vogliono controlli molto più serrati con un regolamento molto più efficiente per poter svolgere e portare a valore e quindi mettere insieme gli strumenti tecnologici specialmente di notte per esempio specialmente di notte e le risorse umane quindi a mio parere qui mi rivolgo ai presidenti non so io qui dei due o tutti e due quella riunione che l'assessore ha detto che si può fare per quanto riguarda appunto l'uso del del piccolo patrimonio che è sucomunato da parte dei contributi andrebbe andrebbe sicuramente fatta andrebbe sicuramente fatta con l'obiettivo anche di indicare come come si intende utilizzare questi contributi oppure come si intende procedere per portare a sintesi l'uso di questi contributi ecco io almeno questa riunione credo che si possa fare e che bisogna memorizzare nel calendario delle nostre attività però il parere non me l'ha espresso avevo già detto in consiglio in consiglio anche perché c'è ancora da chiedere il parere a Verlicchi che giustamente era in attesa in consiglio in consiglio grazie presidente bene quindi l'assessore Costantini ha recepito la richiesta del consigliere Ancisi quindi valuteremo le modalità con cui riconvocarci in tal senso per questa sera vi ringraziamo per la presenza e ci aggiorniamo prossimamente buona buona serata a tutti ciao buona serata buona sera a tutti buona sera arrivederci buonasera buona serata buona serata buona serata